Musica Su quale mobile? Un biliardo La cucina Sempre su una poltrona Lavandino Come mai Lavandino? Devo fare il gesto? Sul tavolo Perché? Perché in mente il tavolo di casa mia Che è molto spazioso Te invece? Io sui fornelli Perché? Non posso rimanere sempre attirato Io sinceramente Mi suscicherebbe farlo Sul mobile della nonna Quello antico Quello dove sopra ci stanno I vasi forsevano Il 1300 Che costano nirno Io anche più della casa E' proprio capito Proprio Su quale mobile? Tavolo Beh un tavolo basso Da salotto In appartamento Sul top della cucina Ciao a tutti Che